Buonasera signore e signori sono S88, benvenuti in un nuovo video di Call of Duty Ghost Quest'oggi sono qua a presentarvi una classe con cui mi ci sto trovando veramente molto bene e che mi permette di salire molto velocemente di livello come avete notato su Call of Duty Ghost, salire di livello è un po' differente, un po' più lento rispetto a Call of Duty Black Ops e quindi, bando alle chance, eccola qua la classe che sto utilizzando AK12 con silenzatore e calcio anteriore per quanto riguarda gli altri non utilizzo né pistole, né stordenti, né granate, né nient'altro i bonus sono prontezza, predatore, estrazione rapida, amplificazione e oscillazione almeno amplificazione mi sembra che era quello, è una specie di percezione ambientale mentre per quanto riguarda le ricompense sono Satcom, IMS e Torretta Robot queste ricompense appunto unite alla modalità Blitz, ovvero Frenesia che vi permette di fare un'uccisione e avere un moltiplico di punti sempre maggiore via via che si uccidono quindi i nemici e si resta in vita ovviamente per restare in vita e non esplodere dobbiamo uccidere i nemici ma va, è una classe molto utile e molto molto appunto adatta per questa modalità di gioco soprattutto con queste ricompense, il Satcom che vi permette di vedere i nemici mentre l'IMS e la Torretta Robot che vi faranno le uccisioni se questo video vi è piaciuto mettete un mi piace, votate, commentate e iscrivetevi ciao e deixate a tutto, ciao ragazzi